Se una zona è degradata, abbandonata a se stessa, è più facile che in questo contesto si annidi l'illegalità. Pensieri e parole del ministro dell'interno Minniti ribadite anche nella sua visita a Fano ed espressamente contenute nel suo decreto dove dà poteri ai sindici per migliorare il decoro delle aree urbane. In questa ottica anche Fano sta intensificando controlli e verifiche sul territorio attraverso la sua polizia municipale, mappando zone a rischio. Una di queste dove ripetute verifiche hanno evidenziato situazioni critiche di illegalità è quella del parcheggio di Viale Kennedy per la sosta dei camper. Questa mattina, poco dopo le 10, due ufficiali ed una pattuglia della polizia locale coordinati sul posto dal comandante di Quirigo ha provveduto a ripristinare l'ordine in questa area rimuovendo forzatamente quattro roulotte e sanzionandone altre otto, tra cui alcuni camper, per varie tipologie di reato. Due di queste trovate anche sprovviste di assicurazione. Nell'operazione andata avanti fino alle prime ore del pomeriggio è stata coinvolta anche l'ASET che ha provveduto a rimuovere oggetti fari, copertoni e rifiuti abbandonati sul posto dagli occupanti delle roulotte, ripristinando la polizia del sito. Altri mezzi non in regola perché non agganciati al rimorchio sono stati invitati dagli agenti ad abbandonare spontaneamente l'area di sosta, liberando così gli stalli a vantaggio di utenti nuovi ed in regola. Dal comando della Polizia Municipale fanno sapere che i controlli continueranno e si intensificheranno proprio in concomitanza delle festività dei morti nei pressi dei cimiteri e dei relativi parcheggi per contrastare eventuali fenomeni di accattonaggio, sempre frequenti in questi periodi dell'anno.